Siete stufi delle serie da gaming e delle standing desk? Allora questo è quello che vi serve. Questa è una vera e propria cyclette da ufficio, con un bel tavolinetto sulla parte superiore e tante funzionalità smart. Con questi pulsanti e il display integrato potete regolare tutti i suoi parametri, quindi anche l'altezza e la durezza della pedalata. C'è il portabicchieri, il supporto per reggere lo smartphone e il tablet e tante porte USB-C e USB-A. Ovviamente queste porte non sono alimentate dalla rete elettrica esterna, ma per produrre energia dovete pedalare. Eh, certo che ricaricare lo smartphone in questo modo è una bella fatica. Il suo nome è Acer iKinect BD3 ed è appena stata lanciata al Computex di Taipei. Non sappiamo ancora se sarà venduta ufficialmente in Italia, ma se dovesse arrivare io ci farò un pensierino.